L'alta pressione che ha garantito tempo stabile e temperature superiori alla norma, quindi l'estate si è prolungata più del dovuto, sta cedendo, tra oggi e domani una debole perturbazione interesserà la nostra regione con qualche piovasco, però nulla di importante, le temperature resteranno ancora su valori abbastanza elevati per il periodo. A partire invece dalla settimana prossima l'autunno si farà vedere e sentire in Liguria, tra lunedì e martedì avremo un calo delle temperature, quindi arriveranno correnti un po' più fredde da nord-est, quindi le temperature tenderanno a scendere, quindi in pratica ci toglieremo gli abiti estivi e cominceremo ad indossare abiti un po' più consoni dell'autunno. A partire invece da mercoledì arriveranno le correnti atlantiche, quindi da mercoledì fino alla fine della settimana prossima arriveranno probabilmente le piogge in pompa magna con diverse perturbazioni che dovrebbero rompere la resistenza dell'alta pressione sul Mediterraneo e poi dirigersi verso l'Italia. La prima è attesa tra mercoledì e giovedì, una seconda più intensa anche con a seguire un marcato caldo delle temperature potrebbe interessarci nel prossimo weekend, quindi il bel tempo, le belle giornate, il caldo sta per finire, ancora appunto un po' di caldo umido ma comunque non associato a tempo buono durante questo weekend e poi dalla prossima settimana si cambia decisamente registro.